Ciao a tutti, siamo arrivati ormai al quarto giorno dei piccolini. Con mio stupore ho notato che da oggi anche il papà si sono attaccati anche al papà, alcuni piccolini. La mamma è sempre la mamma, ce ne sono sempre di più attaccati a mammina, ma anche il papà adesso li nutre. Eccoci qua. Stanno cominciando a crescere, crescono giorno per giorno. D'ora in avanti dovrò decidermi a dargli anche l'artemia, gli inaupuli d'artemia viva. Ecco qua. Vi terrò aggiornati giorno per giorno, se vi fa piacere seguite i video, altrimenti anche no. facciamo una bella zoomata stile quark. ecco qua. non possiedo una videocamera professionale, quindi come zoom si sfoca l'immagine. ecco qua. i piccoletti. ok. beh io starei a filmare per ore, però poi il video diventa noioso. chiudo e vi aspetto al prossimo video, sperando sempre che ce ne sia un prossimo per tanti motivi. per loro, per me, per tutti. ciao a tutti. a presto. a presto. a presto. a presto.